Certamente se mi propongono una cosa che io non amo fare neanche nella vita, dico, mi dispiace molto ma sono impegnata. Mento. Sono Sofia Loren. Adesso facciamo un'altra intervista. Spero vi piaccia. Il film ha dato molto piacere e soddisfatto che mi sento una forza eccezionale per fare cose ancora più importanti per me. Ho avuto dei momenti bellissimi perché non mi sentivo mai una che comincia a fare le cose. No, mi sentivo sempre pronta ad accettare qualsiasi momento, anche difficile nel cinema, anche difficile certe volte nei personaggi, che mi potesse aiutare perché io avevo sempre accanto a me una persona intelligentissima, un grande attore e il suo nome era Vittorio De Sica. Quindi la mia vita è stata sempre benedetta da questa presenza, quasi sempre nei film che ho fatto, quasi sempre. Per me è stato un avantage perché con la vostra... perché mi sentivo non piacerebbe... perché le persone credo che io ero molto bella. Ma il mio buto non era di restare la bellezza del cinema italiano, ma il mio buto era di essere l'attrice perché c'era una cosa che io sentia dentro di me, e magari anche con le mie limiti, ma qualcosa che io potrei fare, e abbastanza bene, se mi donnava cose bene per me, per me, per me, per me, per me, per me, per me. E tutto il mio buto è formidabile, perché non è facile, ma è abbastanza facile. Non ho mai pensato che la mia bellezza, diciamo, questo lo dice lei, potesse indicare veramente la mia strada per il cinema. No, perché il cinema è fatto di tanti personaggi, di tante belle cose, e quindi, secondo quello che pensa il regista, la protagonista deve essere carina o meno carina o bruttina anche qualche volta. E io ho avuto la chance di avere sempre dei ruoli dove ero, diciamo, abbastanza carinella. L'agio è una condizione, non è un privilégio. On ha l'agio che l'on ha, e c'è bene di vieillire bene, e non di diventare caricature di soi-même, con il maquillaggio, con le cose flamboyante, quando on ha un agio di 40-45 anni. Si nasce nella vita, si va avanti con gli anni, e questa è la vita. Non vedo che cosa potrebbe essere. Io non penso mai a queste cose qui, perché la vita è bella comunque, qualsiasi età tu hai, la vita è bella, soprattutto se sei sposata, se hai dei figli, e puoi vivere la tua vita attraverso quello che fanno i tuoi figli. e la vita è continua, continua, continua. Non c'è un momento che perché dice, ma passati gli anni, madonna, adesso che cosa faccio? Mai, mai, mai. No, no. Forse è una forza questa, è una forza questa. Però la vita è bella comunque a qualsiasi età. La vita è bella, è una forza questa. Se sei una persona positiva hai voglia di fare delle cose, hai voglia di avere degli amici, oppure se hai una vita sbagliata tu pensi che tutto ti va male. Io non sono per niente così, io sono una persona molto positiva che ogni volta che mi sveglio la mattina, che bella giornata, che oggi facciamo delle bellissime cose. E sono sempre positiva, sempre, sempre. Forse è per questo che io mi sento sempre relativamente giovane. No, la vita mi piace com'è, come mi viene anche. Per me la riuscita è di trovare un equilibrio nella vita. C'è la grande riuscita. C'è difficile? Non è facile, ma bisogna lavorare, molto. Sentirsi realizzati significa essere contenti di quello che hai, di quello che stai facendo, delle possibilità che hai per la tua vita, ma non solo cinematografica. Anche la tua vita normale, di donna, di madre. E io sono realizzata al massimo come madre, perché ho dei figli meravigliosi, bellissimi. Ho una famiglia meravigliosa, bellissima. Già questo mi basta nella vita. Ed è bello avere la possibilità di cercare di diventare padrona di se stessa e fare nella vita quello che veramente hai intenzione di fare. Grazie a tutti.